Siamo molto attenti a creare un clima positivo in azienda e quindi creare un'azienda dove sia bello venire a lavorare, dove sia bello venire a passare la maggior parte delle nostre ore quotidiane. Quindi siamo interessati a tutte quelle iniziative che possono migliorare la vita lavorativa dei collaboratori. Noi abbiamo iniziato il progetto quest'estate, quindi pochi mesi fa. Nonostante questo breve periodo abbiamo già cominciato a lavorare sull'alimentazione e sul fumo che sono i due primi progetti che abbiamo approcciato. Sull'alimentazione stiamo cercando di favorire una cultura di un'alimentazione sana, quindi abbiamo veicolato a tutti i collaboratori la cosiddetta piramide alimentare, invogliando a consumare più frutta e verdura rispetto a cibi meno salutari. Sul fumo abbiamo creato per la prima volta una policy aziendale sul fumo, limitando le aree dove si può fumare all'esterno perché all'interno dei locali era già proibito da sempre. In più abbiamo organizzato un corso, grazie alla collaborazione di ATS Varese, poco prima di Natale, per invogliare i, seppur pochi, ma presenti fumatori a cercare di intraprendere un percorso che possa perlomeno aiutarli a considerare l'ipotesi di diminuire l'uso del fumo. Grazie a tutti.